Chiaramente non ci sono solamente dispositivi di protezione individuale ma ci sono anche la Pasqua, quindi a giorni tutti i pazienti ma soprattutto gli operatori passeranno la Pasqua in questi ospedali. Pertanto un modo per alleviare questo momento di festosità è anche quello di donare e far donare a tutte le aziende che ringrazio, soprattutto gli imprenditori e i privati aretini, tanto cioccolato e soprattutto un po' un'iniezione di felicità a questi operatori. Una dolce sorpresa per l'ospedale San Donato di Arezzo. In vista delle festività pasquali segnate quest'anno inevitabilmente dall'emergenza, Calcit ed Ordine delle professioni infermieristiche hanno infatti deciso di donare le uova di Pasqua a tutto il personale sanitario e ai pazienti del presidio ospedaliero aretino. Stavolta una vicinanza anche gustosa perché si tratta di doni diciamo dolciari che ci fanno capire come la comunità della città d'Arezzo e della provincia d'Arezzo sta vicino agli operatori della sanità e per questo ringrazio Calcit, Opi che ancora una volta testimoniano la loro presenza nei nostri confronti. Noi ovviamente abbiamo anche utilizzato le raccolte dei cittadini per acquistare i materiali di protezione, questo diciamo vuole essere un augurio alla città, all'ospedale e grazie alle aziende che hanno donato chi le uova di Pasqua, chi i succhi, chi altre cose. Perciò è un momento che siamo a giovedì di Pasqua, perciò sembrava anche doveroso un ringraziamento a tutto il personale sanitario, a tutta la città e grazie a queste aziende e enti che hanno fatto questa donazione. Direi che la popolazione di Arezzo si è comportata al di sopra di ogni aspettativa perché ha partecipato in tutte le maniere, chi con diversamenti, chi prestando la propria opera, chi facendo altre cose anche in silenzio, perciò diciamo Arezzo in questo frangente si è superata.